ciao a tutti ragazzi e ragazzi e bentornati in questo nuovo video questo sarà il volso my iphone del mio telefono il mio telefono è un iphone 8 plus la colorazione silver e ora ve lo faccio vedere ciao allora ho questa cover ovviamente falsa l'itore a secret l'ho presa dai marocchini a mergellina allora è questo il telefono senza ok è questo ragazzi state attenti perché veramente delicatissimo anche vedrò di qui allora io ho questo sfondo tutto effetto marmo troppo carino allora è americano e niente allora accendendo appunto questo sfondo tutto marmo allora io ho diviso tutto in cartelle perché allora ho produttività allora questa qua sono app appunto già prestellate tipo promemoria note note io uso parecchio dove stanno le uso parecchio devo dire la verità poi promemoria non tanto pochino poi wallet poi svago dove ho auto store podcast poi video vabbè poi foto e calendario vabbè credo che sappiate tutti cosa sia calendario poi c'è borsa poi c'è sociale dove c'è google dove sto vedendo l'analisi grammaticale perché non sto scherzando poi c'è traduttore vabbè dove ovviamente si fanno le traduzioni poi c'è instagram dove se volete seguirmi mi chiamo vitti trattino basso youtube questo non è proprio il mio profilo originale perché come avete da questa lineetta ce ne ho due però qua pubblico tutte le cose riguardanti appunto youtube tutto tutto e però io c'ho anche un altro profilo solo che questo qui è privato ed è solamente mio ceno come si dice è privato poi c'è facebook poi c'è messanger poi c'è snap chat che mi chiamo non sono molto attiva e su snapchat quindi non so se vi conviene seguirmi però seguitemi mi chiamo vitti toma poi c'è 21 buttons che secondo voi uso no allora tipo abbiamo questo paio di scarpe ad esempio ora vi faccio un esempio tipo vabbè qui credo che possiamo seguire allora attivo andiamo qui ci piace questa connellina noi vediamo qui sappiamo che di bresca e poi sappiamo che una con gonna finto camuscio che costa 15 90 anni la possiamo salvare che condividere poi se clicchiamo su visita il sito web c'è si collega direttamente a bresca e noi possiamo acquistarla possiamo selezionare i colori eccetera e possiamo direttamente acquistarle poi chi l'acquisto oppure se non sbaglio chi la salva può ricevere una percentuale io mi chiamo vitti trattino basso thomas 0 7 poi c'è telegram che mi chiamo vittoria quindi se volete chattare come vittoria poi c'è pinterest che è appunto un'app dove potete prendere gli sfondi guardate questo qui come bello poi cioè ce ne sono parecchie avevo questo solo che l'ho cambiato ce ne sono molti e se volete io pubblico anche qualcosa e mi chiamo vitti tomassone poi c'è ask dove non ho ancora un account purtroppo poi c'è typic dove tipo potete mettere testi o filtri e tutto allora tipo potete fare tipo quello che volete tipo o possiamo iniziare una nuova partita o sfido classico andiamo su classico per esempio lui e prendiamo tipo lui e lui ci fa delle domande apriamo un ballone ad esempio questo e tipo dobbiamo che chi non è l'angio greco ha ucciso il padre l'esposola ma e pito io non li conosco vabbè comunque poi c'è twitter dove ho un account quindi se volete potete seguirmi mi chiamo vicchiocciola vittoria tomassone thomas 1 1 poi c'è skype dove si fanno le videochiamate le videochiamate poi musicali 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 dove mi chiamo ghiacciola nitamella e faccio musicali ovviamente poi c'è tumblr non sono molto attiva io vedo solamente i tumblr cioè i tumblrini qua poi we are it che è praticamente sempre per prendere gli sfondi guardate questo qui come bello tipo scriviamo shakira e c'è tutto quello riguardante shakira poi c'è philipgram dove mettete video e foto insieme e poi c'è ok questa app è fantastica tipo tipo potete vedere storie di orrore cioè si vede dalla faccia qui ed ecco questa era la mia cartella sociale poi c'è utility che per me non è per niente utility dove c'è contatti calcolatrice vediamo che conti stavo facendo questi bussola memo vocali che uso per salvarmi tutto tipo martedì mi sono salvata storia secondo me per risentirmela secondo la legge e per andare meglio poi c'è torcia fotocamera il bello di questo è che ci sono tantissime opzioni di tratto luce naturale luce set fotografico contouring teatro e teatro bm fantastico poi c'è mappe dove appunto penso che le conosciate tutti ed ecco qui poi impostazioni navigazione non so perché si chiami così dove c'è zara hm dalando e amassone amassone vediamo che urti mio se ce li ho poi mamma c'è andiamo i miei eccoli 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 mia mamma per l'apple watch poi ecco qua meteo meteo dove si vede appunto il meteo poi c'è app store boomerang poi c'è spazio dove praticamente io ora ho usato il 31 per cento e ho disponibile 69 poi salute non c'è io non trovo l'utilità però poi io non c'è non la vedo tanto wow oggi ho fatto 5.000 5.000 5.000 5.000 e 51 passi e 3,2 km ho salito 11 piani ho fatto 2 ore in piedi sì secondo me perché oggi c'era l'interrogazione quindi sono stato 2 ore in piedi dispendio calorie attive dispendio calorie riposo minuti esercizi 11 minuti battito cardiaco 107 bmf salute c'è l'apple watch dove ci sono tutte le cosine collegate all'apple watch poi orologio guardate qui le mie sveglie harry potter ogni martedì sì perché io adoro harry potter feste time musica dove ho youtube dove mi dovete andare a seguire ma proprio in tanti ma in tanti ma in tanti ecco il mio ultimo video è una settimana fa non è vero di più molto di più non lui dice una settimana fa io dico di più chasam dove siete in un bar vi piace la canzone che hanno messo tacchete attivate questo e ve la dice in pochissimi secondi musica dove appunto è già prestellata ma io non ho una cartella chi è? vabbè io ho staccato eh chi era? no chi è? mamma mia lì dove appunto potete andare a cercare qualcosa poi my team mobile rai play dove tipo ha fatto un come si dice? un programma sulla rai che vi è piaciuto? allora lo potete rivedere poi c'è tv vision che possiamo appunto vedere non so perché non te lo fa vedere con l'orario a mpm vabbè comunque potete vedere tutte le cose in diretta io ora posso vedere cosa sta facendo in diretta su rai 1 poi c'è musicon dove ho la mia playlist ad esempio io vado a vedere sempre latino perché sono una ragazza latina americana eccola tutta le cose su latino ah e poi ho anche una mia oddio ho anche una mia playlist ad esempio playlist io ho la mia playlist vitti dove ho tutte le mie canzoni io adoro questa ad esempio questo è stupenda questa canzone la mia poi c'è youtube studio che appunto potete vedere tutte le vostre notifiche tipo qui potete vedere tutto i commenti le visualizzazioni tutto poi c'è spotify 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 dove appunto potete andare io ora stavo sentendo magica di jvalvin che io adoro in questo periodo sto adorando poi c'è di play dove vado a vedere tutti come si chiama tipo vado qua magari qua dove vado su real time dove sta vado qua vado a vedermi 5 giornelle sotto un tetto da lunedì a venerdì poi c'è subcount dove si fa vedere i miei stivisti ora ne ho 33 vi dice tipo vi rinnova tutto ecco qua poi c'è suggerimenti file trova amici trova iphone casa piccola dove fate collage credo poi c'è i movie che note numbers giochi dove ho toilet time fight last minions rush dog hotel pet hotel pet world 3 3 3 sono fantastici poi c'è cartella proprio cartella poi c'è promo qui dove vi dice tutte le promozioni vicino a voi ad esempio tipo ora io ho il mcdonald vicino ad esempio ce l'ho giusto a 10 km oh ho capito e vi dice le promozioni cute è un'app di bellezza guardate io che cosa vorrei ordinare non mi ricordo nemmeno questo qui è un segmento per il trucco perfetto guarda che qua qualche ombretti fantastici eh si mette a fuoco sono fantastici vero? troppo e costano 3 euro più la spedizione 4 euro poi c'è wish che è tipo la stessa cosa ma io vado a ordinare tutte i cover ad esempio andiamo qui sul carrello che cosa vuoi ordinare? vittoria cover cover sempre cover repix dove? ora abbiamo questo paesaggio ad esempio andiamo su no dove sta? no io questo andiamo tipo su le gasce ad esempio e tipo qui imbianchiamo il paesaggio oppure guardate qua questo effetto tipo bombardamento non lo so la siria la possiamo ricreare siamo in sirio ecco ad esempio e questo non lo potete fare solo con le foto degli altri ma anche vostre poi disney channel non so perché ce l'ho ma mio fratello la voleva e allora l'ho scaricata io non l'ho mai aperta oh ancora allora raponzello chi è visto? oddio no non so niente vabbè boh non so che cosa sia poi c'è make up dove c'è sephora 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 io non l'ho ancora aperta ma dai poi c'è mac mac chico e maquilla italia questo qua è troppo bello perché ci sono offerte bellissime tipo andiamo su catalogo andiamo per esempio su maquillage andiamo su occos questo è spagnolo perché c'è o inglese o spagnolo tipo andiamo sombra de ojos qui abbiamo oi ombretti ci abbiamo prezzi troppo buoni tipo 5 euro 4 euro troppo belli e poi c'è e roba anche a volte buona ad esempio tipo ombretti in crema ad esempio a 4,95 tutti 4,49 anche a 3,99 è molto buona poi c'è vabbè c'è questa andiamo a vedere ad esempio per le labbra c'è anche molta roba per le labbra ad esempio tipo andiamo su labios per esempio possiamo mettere questi guardate rossetti a 4,95 molto buono come prezzo e no pagate la spedizione poi c'è apple store che conoscerete tutti e poi c'è squid che ad esempio vi dà tutte le notizie per esempio andate su delle categorie io ora vado ad esempio su musica e tipo vi potete trovare anche cantanti ad esempio innovativi tipo questo che è no non è per niente innovativo ci sono tutte queste cosine qua e niente ragazzi ah vabbè qui sotto chiamate safari messaggi e ciao